Siamo alla scoperta dei giovani in gara quest'anno a Sanremo e quindi il nome è quasi uno scioglilingua almeno per chi non ha tantissima confidenza come me con la lingua inglese lui invece ce l'ha e giustamente ha scelto di chiamarsi Vrongo New Ciao, benvenuto Marco Ciao a tutti Allora, possiamo partire spiegando e raccontando come mai un nome d'arte in inglese? Perché ho cominciato col canto adorato in inglese, ho sempre ascoltato musica straniera insomma per casa tramite i miei cantori ho sempre girato musica straniera e quindi mi è venuto spontaneo iniziare in inglese e poi è iniziata la cantina con l'italiano un paio di anni fa E se non ricordo male, tu sei stato notato sui social? Sì, certo, sono state due avventure capitate proprio tramite internet, queste chiamole vie contemporanee che è stata una mentre avevo messo delle canzoni a offerta gratuita su SoundCloud e quindi se avessi scritto zero avessi scaricato il singolo gratuitamente oppure a seconda del numero che mettevi mi arrivavano dei spiccioli su un conto e mi sono ritrovato un giorno una sterline 50 che poi si è scoperto che era il professor di Sound Technology di Oxford che mi invitò a fare appunto un disco lì, poi non è mai uscito, però è stata proprio un'esperienza che mi ha fatto scappare la scintilla di di no, io voglio fare questa una vita, viaggiare, suonare, cantare, assolutamente e poi un'altra che tra l'altro c'è pure una ricorrenza oggi, ci ha ricordato Instagram io, cioè anche tramite i social io ho firmato diciamo con la mia casa discografica sono stato contattato sulla pagina Facebook di Brongo New da, passami il termine romano che non me ne vengono altri, il capoccia della mia casa discografica, Carosello Records e oggi inizia Sanremo a cui partecipo, io ho firmato esattamente oggi 5 anni fa con la casa discografica quindi magari c'è qualcosa, non lo so Tanti auguri, possiamo dire tanti auguri per questi primi 5 anni insieme però prima hai detto una cosa, io mi permetto di dire, è un po' riduttivo o inesatto o meglio tu hai detto, nella mia vita ho capito che volevo fare musica ma tu non sei solo questo, sei anche un attore Sì, insomma lo sono stato, poi non so se lo risarò in futuro però sono usciti degli sketch ma mi hanno fatto tanti complimenti quindi magari sarà una porta che si riapre però ho avuto la fortuna di lavorare nel film di Alessandro Gassman, il premio appunto lui è sia protagonista che regista e scrittore insomma del film insieme ad altri autori e c'era insomma nel cast, primo fra tutti, i proietti con i quali ho passato dei mesi bellissimi insieme che non scorderò mai Direi che ti sei fatto in questo modo un grandissimo regalo tra l'altro del premio hai curato anche la colonna sonora La colonna sonora, sì, inizialmente infatti Alessandro mi ha chiamato per mettere delle canzoni già esistenti Dopodiché mi hanno detto senti ma vuoi fare proprio, vuoi proprio musicare il film? Io ho detto fare un buon sogno, l'avevo visto in To The Wild un road movie da musicare era il mio sogno, mi spiego una sonora quindi ho fatto questo grande regalo e diciamo che è andato bene, è un'esperienza bellissima Va bene, ora che abbiamo rotto il ghiaccio direi che possiamo andare ad allenarci in un campetto di basket questa volta puoi fare contro di me dove forse puoi avere la meglio Spieghiamo la cosa, perché hai parlato di sketch, sketch che hanno avuto un grandissimo successo uno di questi è con il capitano della nazionale di basket italiana Sì, con Gigi Datome, siamo amici da un po' di anni, siamo conosciuti tramite Instagram e non sapevo che lui fosse un fan, però che mi seguisse e il giorno prima di un festival importante all'estero che era il Primavera South di Barcellona in Spagna mi dice, oh peccato che cavolo c'ho i playoff che prezzerebbe la fase finale del campionato di basket non riesco a venire e io ho detto ma chi è che mi ha scritto? lo sento a leggere, Pier, Gigi Datome ha fatto qualche miseria quindi da lì, da qualche annetto poi era appunto uno degli ultimi giorni delle riprese del film in cui parlavamo, appunto del premio e da lì, insomma, sono diventati sempre amici di Penna perché non ci siamo mai visti proprio da presentare il suo libro a Milano e ci siamo conosciuti per sola, prima ci è nato insieme e adesso che gioca con l'Olimpio a Milano che viviamo tutti e entrambi lì c'è un modo proprio di frequentarsi è una persona incredibile perché è sì un grande sportivo ma è pure molto intelligente è acculturato, segue mille progetti è una persona molto sensibile quindi aver comunque così anche detto di sì a fare uno sketch un po' scemo come quello che è stato il mio l'allenamento per Sanremo ti fa capire, insomma, la caratura della persona comunque se vuoi io continuo a essere disponibile per rifarti cioè poter far vedere al pubblico che in realtà c'è chi è peggio almeno a livello mi metto, faccio un po' di mosse e poi vediamo cosa succede ok, scherzi a parte torniamo invece sulle cose importanti lezione di volo è la cosa più importante di tutte ti chiedo quindi di commentarla per noi sì, allora lezione di volo è una canzone che ho scritto durante il lockdown per quale sono molto fiero e allo stesso tempo nonostante è una canzone nuova perché la fine è scritta un anno fa sono nel cassetto canzoni che restano lì per anni poi escono io sono già affezionato a questa canzone e per me rappresenta proprio la libertà c'è una frase che dice voleremo da fermi per stare meglio era un po' l'intenzione durante la quarantena che mi ha aiutato anche poi a scrivere un intero disco per me rappresenta proprio l'uccidere la paura di Sentrix Liberi perché è davvero importante fare le cose per se stessi ma senza egoismo ma con amore verso se stessi e io l'ho fatto facendo un disco in primis piacesse a me e che sono stato super super felice che poi è piaciuto all'intero team di lavoro perfetto hai detto disco quindi mi dai la palla il gancio il passaggio per chiederti pochi giorni poi esce l'album sì il 12 marzo uscirà il mio nuovo album dove ce l'ho non so il contrario dall'altra parte bravissimo che mi muovo a specchio è difficilissimo infatti non riuscirei mai a presentare in me guarda con un po' di impegno un po' di allenamento forse sì sì e quindi è un disco davvero a cui tengo molto che è uscito tutto fuori in quarantena e tra l'altro c'è pure una canzone che un po' riprende con la vostra radio che si chiama nonno pluno il pezzo che parla appunto di di mio nonno al quale ero veramente tanto legato che sono tuttora legato e spero che in qualche modo riesca a sentire la canzone perché ci terrei tantissimo e un disco dove sono riuscito come dire a essere il più sincero possibile perché un pensiero che ho fatto anche durante il lockdown è stato che le canzoni che più sono arrivate dritte al cuore sono state proprio quelle che io ho scritto in poco tempo in 5 minuti proprio in modo spontaneo e in modo più sincero per chiudere questo collegamento ti chiedo quindi di salutare occhio a non dire nonno bruno ma gli amici di radio bruno poi se vuoi dire che nonno bruno nonno bruno e gli amici di radio bruno insomma comunque radio metticela ecco un saluto personalizzato vai ciao a tutti agli ascoltatori di radio bruno e un saluto anche a nonno bruno io sono Brogognio e buon festival a tutti quanti Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca Encaplast Packaging Solutions Audi Zentrum Modena Schiatti Motor ODS Giocattoli Cantina di Quistello dal 1928 Supermercati Famila con noi sei in famiglia e Marluri Caricamore Grazie a tutti